buonvenuti a questo frighi fraki presentato oggi dal mitico sparcuccio impressione impressione ribadisco impressione perché sono pressato dalla nulla facenza e che a posto della birra ha comprato per sbaglio il sidro o cedro o cidro di pier di pera c'è anche la pera stampata come cazzo ho fatto sbagliare non lo so assaggieremo questa bevanda fa pure la schiuma accompagnata dal cheese e onion beh la salute porca puttana è veramente buono è proprio frizzantino la birra proprio non c'è pizza un cazzo assomiglia più a quei spumantini leggeri 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 non lo so però veramente figo veramente figo è molto gassata forse più gassata di certe birre però buono cioè non è coseto un cazzo perché allora mi avvicino allo scaffale leggo due pound e venti quanto cazzo hai rotto minchia quattro birre due pound e venti li prendo dubito senza guardare come che marca e cose c'era scritto stampato così accompagnato da queste patatine in realtà anche comprando queste patine ho sbagliato perché pensavo che il pacco era tutto sano pieno di patatine invece dentro il pacco c'erano questi cazzo di pacchettini che occupano un sacco di spazio però le patatine sono buone allora alla salute con uno sacchiotto il taglio unghie il sidro di birra di pera patatine a formaggio e cipolla è tutto per la salute con uno sacchiotto per la salute con uno sacchiotto per la salute con uno sacchiotto per la salute con uno sacchiotto